Ma Kendrick Lamar ha davvero dissato Drake e J. Cole? Questo venerdì, come tutti sappiamo, è uscito We Don't Trust You, il tanto atteso joint album di Future and Metro Boomin. All'interno troviamo Like That, un single in collaborazione proprio con K-Dot. Analizziamo insieme la sua strofa. Fanculo parlare alle spalle, First Person Shooter, che è una citazione al brano di Drake e J. Cole contenuto in For All The Dogs, spero vengano con tre switches. Proprio in First Person Shooter c'è una barra di Cole in cui diceva Amo quando discutono su chi sia il GOAT. È Kendrick? È Drake o sono io? Siamo i tre più grandi, come se giocassimo in un campionato a parte. E a ciò, sempre in Like That, Kendrick ha replicato Fanculo i tre più grandi, ci sono solo io. Handword, boom, prima che tutti i tuoi cani vengano sotterrati. Ovviamente si tratta sempre di un riferimento all'album di Drake, mentre Dog, nello slang americano, significa fratello, quindi prima che tutti i tuoi fratelli vengano sotterrati. Ora, veniamo al dunque. Si tratta di un dissing vero e proprio? Secondo me no. Ovviamente le barre sono pesanti e soprattutto sono indirizzate a tutti gli effetti, a Drake e J. Cole. Ma per come la vedo io, tutti e tre stanno giocando molto con l'hype su questa narrativa del chi è il GOAT. Quindi è come se per certi versi si stiano divertendo, cercando di stimolarsi a vicenda. Tu invece che ne pensi? Scrivicelo nei commenti.